Al Marelli Hospital di Crotone è possibile eseguire l'esame di videoproctoscopia digitale, una metodica innovativa che diventa indispensabile per una diagnosi corretta delle patologie anorettali e quindi per tutti quei pazienti che soffrono di problemi proctologici, così come ha spiegato ai nostri microfoni il dottore Attilio Nicastro, chirurgo colon proctologo della struttura crotonese. La videoproctoscopia digitale è la nuova apparecchiatura che abbiamo al Marelli Hospital ed è un'evoluzione di quella che è l'arettoscopia o l'anoscopia tradizionale e deve essere eseguita su tutti i pazienti che hanno problemi proctologici, quindi per una diagnosi corretta di raga ed emorroidi, per fare una stradeazione giusta di queste patologie in modo tale poi da poter stabilire un corretto percorso di terapia. È doloroso come esame? Non è assolutamente doloroso, non va fatta alcuna preparazione prima di questo esame, si lavora dall'esterno, si fa una registrazione delle immagini e poi viene spiegato al paziente il video e anche la patologia che abbiamo riscontrato in modo da prendere anche coscienza. È un ottimo esame anche per responsabilizzare il paziente verso la patologia, ma oltretutto è una prova evidente non solo della patologia ma anche dopo che il chirurgo che ha fatto l'intervento ripete l'esame e fa vedere magari la risoluzione della patologia prima riscontrata.